Tre fiorieri all'ingresso del Cal Maggiore per impedire l'accesso a tutta velocità e eventuali malintenzionati durante le affollate giornate dello shopping natalizio. Sono quelle posizionate dal Comune che ha così eseguito la direttiva della Prefettura in attesa di una soluzione definitiva. Le barriere antiterrorismo provvisorie perché noi stiamo lavorando per poter realizzare e allocare delle barriere a scomparsa. Identico provvedimento con la medesima finalità si adotterà all'ingresso del mercato settimanale. Nel frattempo una fioriera chiude insieme ai New Jersey di cemento che delimitano la curva anche l'accesso a piazzale Burchiellati. Sicurezza sotto le feste anche attraverso un'altra novità. In arrivo 15 bodycam, micro telecamere che la polizia locale indosserà sui giubbotti. Permetterà loro a piedi di riprendere quando soprattutto ci sono assembramenti o comunque c'è folla nelle piazze del centro ma anche dei quartieri e di collegarsi direttamente alla centrale operativa. Sperimentazione per un paio di mesi a cominciare dal periodo natalizio poi con l'anno nuovo si deciderà se farla entrare in via definitiva nella dotazione dei vigili. Grazie.